ciao a tutti da loretta oggi è il 20 di aprile e queste sono le prime taccole che si trovano sul mercato proprio tra aprile e giugno in genere se potete trovare anche prima però sono primizie io preferisco sempre aspettare la stagione giusta si chiamano anche piselli mangia tutto perché praticamente si mangia tutto allora come si puliscono prendete il lato dove ci sono i piselli staccate un estremità tirate il filo staccate l'altra estremità e la taccole pronta potete continuare sempre in questa maniera ecco le più grossette magari una volta lavate le spezzate a metà come si preparano in umido lessate queste sono le preparazioni più comuni e poi si possono utilizzare anche per delle zuppette deliziose alla prossima